Ed è subito sera, incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi. Una buona serata da parte di Andrea Maggi qui su Radio Dolce Vita, la radio della città di Ferrara. Questa sera incontriamo un poeta che abbiamo già visto in alcune delle nostre precedenti puntate, il francese Paul Verlaine. Siamo in un clima di carnevale e vi propongo questo testo che si chiama Pantomima. Pierrot che non ha niente d'un clitandro si vuota un fiasco senza più attendere e, pratico, prende a morsi un pasticcio. Cassandro, in fondo al viale, versa una lacrima misconosciuta per il nipote diseredato. Quel ribaldo di Arlecchino combina il rapimento di Colombina e si fa quattro pirouette. Colombina sogna, sorpresa di sentire un cuore nella brezza e di udire delle voci nel suo cuore. Una poesia molto breve di Paul Verlaine che tratta, come avete sentito, personaggi maschere della commedia italiana e anche francese, ma le tratta come? In maniera proprio dissacrante al massimo, in linea con il personaggio Verlaine e la produzione letteraria di Verlaine. Perché, pensate, Pierrot è una maschera famosissima in Francia, è una maschera della commedia italiana in Francia, è quel personaggio che ha quel caratteristico costume fatto da pantaloni e casacca bianca con i bottoni della stessa stoffa di velluto nero ed è la figura classica dell'innamorato patetico e sfortunato. E qui Verlaine invece come ce lo presenta? Un Pierrot ubriaco che prende a morsi un pasticcio. Poi Clitandro, che è un personaggio anche questo francese, creato da Cornel, che è stato uno dei maggiori drammaturghi e scrittori francesi. E poi Arlecchino, la famosa maschera bergamasca, anche qui è un dissacratore di questa maschera, è questo ribaldo di Arlecchino che combina il rapimento di Colombina e si fa quattro pirouette. Arlecchino è una maschera che è di origine bergamasca, ma è nostra, italiana, poi è diventata una maschera veneziana. Carlo Goldoni l'ha fatta conoscere tutto il mondo. Colombina, la fidanzata di Arlecchino, di cui Arlecchino è sempre geloso perché Colombina è sempre presa dalle mille attenzioni del padrone pantalone. Ecco, tutte queste maschere, Paul Verlaine ha la capacità di metterle insieme, dissacrandole, cioè facendole vedere quasi in un'orgia di mangiare, di bere, di sorprese e di sogni, in questa che lui chiama pantomima. Ecco, la pantomima che cos'è? Poi è una scena nella letteratura teatrale caratterizzata da gesti, da atteggiamenti, o anche da un ballo spesso, ma sempre con un carattere farsesco. E questa pantomima, Paul Verlaine rispecchia molto di quella che è stata la sua, come dicevo, produzione letteraria, ma anche la sua vita, una vita per quei tempi sicuramente molto particolare, nato alla metà del 1800 nella Lorena francese, fin da piccolo ha mostrato segni di insofferenza per quelli che possono essere i canoni della borghesia dell'epoca. Ha studiato lettere, ha studiato giurisprudenza, ma ha presto abbandonato l'ambiente accademico per frequentare i caffè e i salotti letterari di Parigi, alla pari di tanti altri scrittori e poeti, come Baudelaire, che abbiamo incontrato in molte delle nostre trasmissioni. Una vita, dicevo, quella di Verlaine, contrassegnata dalla omosessualità, che pensate all'epoca era sicuramente al di fuori dei canoni del tempo. A un certo punto della sua vita compare un diciassettenne Rimbaud, che da lui chiamato dopo che il giovane ragazzo gli aveva inviato qualche lirica, iniziano insieme una relazione molto intima, insieme fanno un vagabondaggio. Pensate che era sposato a Verlaine, quindi ha lasciato la moglie e anche un figlio per seguire questo diciassettenne poeta, anche egli, per seguirlo in Inghilterra e in Belgio. Una relazione tumultuosa che poi è finita dolorosamente, poi seguita anche da periodi in cui è stato rinchiuso in prigione, perché ne ha combinate un po' di tutti i colori, una sera ubriaco, ha esploso due colpi di pistola contro il rebbo stesso. Insomma, una vita assolutamente, assolutamente dissoluta. Divorzia poi dalla moglie, viene arrestato nuovamente, passa i suoi ultimi anni tra alcol e chissà quali altre sostanze, come dire, stravaganti, come si diceva una volta, tanto che mentre si accresce sempre di più la sua fama, lui cade sempre più in miseria e la produzione dei suoi ultimi anni è contrassegnata da una scarsa incisività, probabilmente scriveva solo con lo scopo di guadagnare qualche denaro per sopravvivere. Qui invece nella poesia di questa sera abbiamo una rappresentazione, se vogliamo quasi tragica, di questi personaggi che solitamente associamo ad atmosfere invece divertenti, il carnevale è il periodo in cui si fanno gli scherzi, in cui si ride, in cui si fa festa, in cui si prendono le ferie. E lui invece ci rappresenta questi personaggi che prendono a morsi un pasticcio, bevendo fiaschi di vino, tra sogni, voci che si sentono nel cuore e con una lacrima misconosciuta. Carnevale è anche il titolo di una bella canzone di Riccardo Cocciante che ascoltiamo insieme. Un sorriso di più Ho una lacrima in più Mentre il tempo vola Prima il bene e poi il male Con lo zucchero e il sale seccano la gola Carnevale E comincia così la mia recita Salto fuori da questa mia scatola E la mia faccia ride già Carnevale Basterà che io suoni un'armonica Per riempire ogni cosa di musica E tutto quanto passerà Oggi pensa se vuoi per consolarci E pensa se vuoi per aiutarci A cambiare la realtà Un giorno di più e anche un giorno di meno Perché il tempo vola Il silenzio fa male Ma anche troppe parole seccano la gola Carnevale Se la vita mi sembra un po' stupida Togo nasce da questa mia manica E tutto quanto cambierà Cambierà Carnevale Se ogni giorno mi sembra più inutile ballo fino a stancarmi anche l'anima, che poi domani si vedrà. Oggi è festa se puoi per consolarsi, è festa se puoi per aiutarci a cambiare la realtà. Carnevale, per ognuno di noi c'è una maschera, se nascondo un sorriso, una lacrima, io non lo dico ma lo so, io lo so, io lo so, io lo so. L'afforismo di questa settimana è di George Byron ed è in linea con questo periodo e dice, dopotutto cos'è una bugia? È solo la verità, ma in maschera. Appuntamento alla prossima settimana con Ed è subito sera. Avete ascoltato? Ed è subito sera. Incontro con la poesia, a cura di Andrea Maggi. Grazie. 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 Grazie.